Benvenuti in questo nuovo video, oggi sono io sempre LOL Gamer Ed oggi siamo qui con un nuovo video Allora, da oggi partirà un nuovo Un primo Il mio primo let's play Lo farò su Pokemon Platino Che è un gioco che ho sempre desiderato Che ho installato attraverso uTorrent E il corso Nero Quindi non perderecivi in piacere e iniziamo subito Ragazzi, partiamo col dire che La registrazione di questo video Questa è la terza volta che registro Questo video Perché la prima me l'ha bloccata La prima e la seconda me l'ha bloccata Perché ci perdono i 15 minuti Quindi dovrò fare due video Ecco Pokemon versione Platino E accanto c'è Ghiratina e tutto il suo splendore Allora, iniziamo Ragazzi, in questo video farò vedere solo La intro, quindi col professor Rowan Perché? Perché sì Ciao, felice di conoscerti Ti do il benvenuto nel mondo dei Pokemon Ecco il professor Rowan Il mio nome è Rowan Ma per tutti sono il prof Pokemon Prima di cominciare Devo farti una domanda È la tua prima avventura? Questa? Se hai bisogno di consigli Io sono la persona più adatta a cui rivolgersi No, ho giocato a parecchi Pokemon Quindi no Questo mondo è abitato da creature chiamate Pokemon Ecco, questa è una Pokeball Tocca il pulsante al centro della Pokeball Wow, che cosa strana Cioè, Pokemon è ambientato in un'era Tipo il 3000 Non è possibile che da una palla Esce un animale strano Noi i mani viviamo al fianco dei Pokemon Che sono nostri amici fedeli Che sono nostri amici fedeli Scusate A volte i Pokemon sono compagni di gioco A volte Preciosi collaboratori Alcuni di noi si coalizzano con i Pokemon Per sfidare altre persone Stabilendo Con essi Un profondo legame Scusate se avete sentito un urlo Non so se si è sentito Ma mia sorella è appena entrata in camera Che cosa faccio io? Mi dedico alla ricerca Sui Pokemon Per saperne sempre di più Prima di tutto Parlami un po' di te Sei una ragazza O un ragazzo Non lo so Sono un ragazzo Sono una ragazza Sono un maschio Allora sei un ragazzo? Sì Come ti chiami? Ragazzi in questo gioco Userò il nome di No Ni Ni Chi Bene In questo gioco ci chiameremo Niki Ti chiami Niki giusto? Sì Ok e così tu sei Niki È proprio un bel nome E questo invece penso che sia un tuo amico Come si chiama? Lo chiamerò Elvis Perché mi sta simpatico Elvis Perché è Elvis Presley Si chiama così il tuo amico? Sì Per chi non sa chi è Elvis Presley Andassi su internet a cercare Bene Niki È arrivato il grande momento La tua personalissima avventura Sta per cominciare Nel corso del viaggio Incontrerai molte persone E Pokemon Ti sicuro farai tante scoperte E imparare qualcosa anche su di te E adesso vai Tuffati Nel meraviglioso mondo di Pokemon Con un tuffo Mezzo tuffo calpiato Mondo Digimon I Pokemon sono sempre al nostro fianco Spero che tu capisca il significato di queste parole Questo è il commento lasciato dal profro One Tornato a Sinno Dalla regione di Canto Pokemon Platino È ambientato nella regione di Sinno E con questo si conclude il nostro speciale Chiediamo al profro One Un reportage di Giubilo TV Sulla rete nazionale Alla prossima Stessa ora Stesso momento Stesso canale Take me out Che? Che? Ha violato la nostra privacy Come ti permetti zio Eccoti qui E Niki stavi guardando la tv? Certo che si Il profro One È quello È quel pezzo grosso Che studia i Pokemon Vero? Quel pazzo Significa che deve avere un sacco di Pokemon Quindi Se glielo chiediamo Chiedessimo Scommetto che Ce ne darebbe qualcuno Giustamente Oh hey È un PC nuovo Dov'era? Ah giusto Stavo mandando dal profro One Per farci dare dei Pokemon Aspetto fuori eh Ok Niki Se arrivi in ritardo Ti faccio una multa Da 10 milioni Sì 10 milioni Te li sogni Tu E tua zia Cioè 10 milioni Non te li darò mai Non so se Niki Alvis Se ne è già andato Non so cosa dovesse fare Ma andava proprio di fretta E questo credo sia nostra madre Sì Allora ragazzi Aspettalo Ah sì Niki Non è andare nell'erba alta I Pokemon selvatici Potrebbero Attaccarti Se avessi un Pokemon Non sarebbe un problema Ma visto che non è così Beh Fai attenzione Tesoro Va bene Bene ragazzi Per oggi È tutto Per questo breve video Anche se è durato 5 minuti Devo caricarlo così Perché Perché sì È anche ora di pranzo Quindi devo andare a mangiare Allora Salviamo ragazzi Vuoi salvare il gioco? Sì Savotaggio Di molti dati in corso Non spegnere la console Allora Aspettiamo che salviamo Un secondo Ci piega un po' Perché non lo so Bene Se volete Cioè Io continuerò lo stesso Questo let's play Comunque Voi continuatevi a iscrivervi A lasciare un bel pollicione E ci vediamo Al prossimo episodio E